Una speciale arena allestita nel tempio di Serapide di Pozzuoli e un pianista che ama la musica l'ha perduta e ora l'ha ritrovata. Ezio Bosso, uno dei compositori più influenti della sua generazione e la sua storia, una malattia che gli ha tolto il linguaggio e le note. Ma ora il suo stile e la sua ricerca, i suoi diversi linguaggi musicali, sono di nuovo riconosciuti in tutto il mondo. A Pozzuoli ha ricevuto il premio Civitas 2016. In questa sua lunga tournée ha raccolto il calore del pubblico.